la letteratura italiana è ricca di testi radicali forse più radicali di tutti e quindi consegnare la lettura vuol dire essere pronti a essere scioccati persino scandalizzati quella del principe di macchiavelli un testo che controverso che fece scalpore nell'epoca in cui fu scritta ma che poi segretamente è stato utilizzato e continua a essere utilizzato nell'azione politica la pregiudicatezza di macchiavelli consiste soprattutto nel fatto che egli distingua chiaramente la politica dalla morale la politica si misura secondo leggi proprie la legge la legge principale della politica è quella dell'efficacia quindi un'azione politica è giusta se efficace questa diciamo divisione della politica della morale avrà conseguenze incalcolabili anche soprattutto nella storia italiana andare alla fonte leggere questo libro che tra l'altro è un libro di altissima letteratura è un modo anche per riconsiderare tutta quanta la storia italiana la storia politica europea oltretutto esiste in questo libro una sottile ironia che che qualsiasi lettore può cogliere e quindi lo consiglio vivamente non come oggetto di studio come normalmente sia nella scuola ma proprio come lettura privata ciao 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 ciao